Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La battaglia legale tra Ilari Blasi e Francesco Totti non conosce tregua, nemmeno durante l'estate. Secondo quanto riportato dal messaggero, la conduttrice ha chiesto al Tribunale di Roma di rivedere l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, passando dai 12.500 euro attuali a una cifra tra i 18.000 e i 20.000 euro mensili. L'avvocato di Blasi, Alessandro Simeone, ha presentato la richiesta a luglio, sostenendo che, a causa della riduzione dei suoi redditi, l'ex presentatrice dell'Isola dei Famosi non sarebbe più in grado di coprire le spese della lussuosa villa a Leur. La risposta di Totti non si è fatta attendere. Il suo legale, Antonio Conte, ha replicato che Blasi, grazie agli introiti del docufilm unica, del libro Che Stupida. La mia verità e del programma Battiti Live dispone ancora di entrate consistenti. Inoltre, Totti ha sottolineato che il primogenito Christian è ormai indipendente e non vive più nella casa coniugale.